Vabbè, non è un tavolo formale. No, assolutamente, ma io sono molto... Parte... no, facciamo un minimo di liturgia per chi è collegato online, sia colleghi giornalisti che curiosi e interessati. Salute o libertà, un dilemma storico-filosofico, 14 euro ben investiti dell'Aurubettino, a firma del professor Corrado Ocone, che adesso in un'ora e tre quarti illustrerà il contenuto... No, no, in dieci... E poi Nicola dirà perché condivide la linea del ministro Speranza, anzi lui sarebbe più rigido. Lui penso che vorrebbe anche vietare le passeggiate, anche sta gente in giro con i cani, e adesso mi sembra veramente un azzardo, vista la situazione che stiamo vivendo, e poi trarrò delle brillanti conclusioni dopo gli interventi di chi mi precede. No, il mio non è un intervento, anche perché l'avevo concepito come un botta e risposta fra l'amico Nicola Pozzo e Matteo Salvini, che ringrazio, ringrazio tutto il gruppo della Lega per questa importante occasione. Con Salvini, insieme ad altri amici che vedo qui presenti in sala, per esempio il professor Tomassetti, abbiamo iniziato un discorso culturale che stiamo portando avanti, insieme soprattutto al professor Marcello Pera, che ovviamente non è venuto per motivi di spostamenti, eccetera. La Toscana, fra l'altro, è molto in ritardo con i vaccini. E quindi mi è sembrato doveroso farlo qui, perché, anche se il mio libro è assolutamente teorico, teoretico, come dico nell'introduzione, esso nasce da un disagio forte che ho avvertito io, insieme ad altri amici, e sicuramente anche Nicola Pozzo, che ha origini liberali, anche lui come me, un disagio che abbiamo avvertito sul modo in cui è stata gestita la pandemia, del tutto, come posso dire, indifferente a quelli che sono i diritti di libertà. Ora, i diritti di libertà, per carità, di fronte a un virus che non si conosceva, possono essere anche momentaneamente limitati, però andrebbe fatto con un pathos, una gravitas, direbbero i latini, molto superiore. E quindi proprio questo disagio mi ha portato a... mi ha fatto nascere l'occasione, è stata l'occasione per la nascita di questo libro. Ovviamente io partecipo in linea al dibattito politico pubblico. Questo è un libro più sui fondamenti. Però, come si vedrà subito, chi lo legge si renderà conto che proprio perché è un libro che tratta di fondamenti teorici, attraverso uno scursus di autori, ci richiama all'oggi e ci richiama a un problema fondamentale. La paura, il sentimento della paura, è un sentimento che è appunto molto forte, atavico, e i politici dovrebbero sentire la responsabilità di gestirlo bene. E quindi credo che proprio per questo noi abbiamo avuto politici che non ci meritiamo, almeno nel primo governo Conte, perché hanno gestito a dir poco male la situazione, ma io direi ancora di più con una incapacità mista a una cultura liberale veramente notevole. Do subito la parola a Nicola Porro. Grazie, Corrado. Corrado, allora io vi dico molto brevemente due cose, poi dopo invece l'ospite più importante, se ci permette Ucone, è il senatore Salvini, quindi a lui lascerei subito la parola. Però una cosa ve la voglio dire, questo libro l'ho letto come spesso avviene con i libri liberali, perché ho una certa facilità, quando leggo Locke, Hobbes o Machiavelli, già sto abbastanza certo che ho letto il 99% di quello che hanno scritto, quindi ci impiego molto poco a leggerlo. Però la cosa importante di questo libro, siamo in fondo qua a presentare questo libro, è una cosa che a me fa venire il sangue al cervello, perché si pensa che coloro che hanno un'idea diversa rispetto all'atteggiamento di chiusura in questo momento, cioè una maggiore sensibilità nei confronti dell'apertura, sono dei violenti con le braccia tese, scusate, io non c'ho nulla contro i violenti, le braccia tese, ce l'ho molto contro di loro, ma uno invece legge questo libro e dice forse magari possiamo anche metterci d'accordo che Hobbes ci aveva spiegato una cosa, che Locke ci aveva spiegato una cosa, che il sentimento di paura è esattamente la forza del sovrano, e questa cosa sono 400 anni che ci hanno spiegato i liberali, come manovrarla. Non peraltro perché è come se, io lo vedo nelle mie trasmissioni televisive, ci fosse, se mi perdona, il becero Porro, il becerissimo Salvini, e dall'altra parte gli aristocratici del pensiero che, come dice Speranza nel suo libro, trarranno da questa pandemia l'occasione, cito a memoria, l'occasione per una nuova egemonia culturale della sinistra. Allora, io che non sono di sinistra, lo dico molto esplicitamente sempre, nel senso che sono un liberale, come se lo ricorda Ocone, quando leggo questi libri trovo balsamo per i miei pensieri. Non si deve attribuire alla protesta, anche civile, che tutti quanti noi facciamo, rispetto a delle chiusure e alla scarsa considerazione della libertà, soltanto come un atteggiamento egoistico di alcune, che non avrebbe nulla di male di alcune categorie, ma c'è un pensiero fortissimo dietro, Ocone, che tu racconti, e anche in maniera critica, perché, ad esempio, tutta quanta, diciamo, la prima teoria liberale obesiana, noi ovviamente non la possiamo considerare legittima, ci piace molto di più l'evoluzione che ha avuta. Questa roba qui e questo dibattito che per noi liberali, cioè la differenza e i limiti della violenza di Stato, il cui monopolio noi glielo attribuiamo ben volentieri, perché non siamo degli anarcho-liberisti, quindi lo Stato ha un ruolo. Salvini ha fatto il ministro degli interni, noi pensiamo che ci debba essere un ministro degli interni, che si debbano difendere i confini, che si debba amministrare la giustizia, si debbano financo fare delle opere pubbliche. Però, cavolo, ci sono dei limiti, e questi limiti dove vanno a finire? La differenza tra un liberale e uno statalista esiste, e quindi questa idea di un libro che dia sostanza liberale a posizioni che altrimenti possono essere considerate soltanto delle posizioni antigovernative, secondo me è sacrosanto, lo dico con una persona che oggi è al governo. Ripeto, non c'è motivo per il quale noi liberali, Ocone, io e te sto parlando in questo momento, non si debba pensare che con terrore a quella frase del libro di speranza che legittimamente dal suo punto di vista scrive, e cioè che la pandemia è il momento per riaffermare l'egemonia culturale della sinistra, e c'è un terreno fertile per farlo. Se lì c'è un progetto politico, non capisco perché noi liberali non si possa dire a un certo punto attenzione, qual è il ruolo dello Stato, fino a che punto può arrivare, quante pandemie possiamo sopportare, quali emergenze potranno giustificare la mancanza e la sottrazione di libertà. Questo non ha nulla a che vedere con negazionismo, con violenze, nulla a che vedere con quello. E questo libro ci aiuta ad avere dei fondamenti culturali che nonostante molti pensino che non ci siano, ci sono e come. Salvini, io la prima domanda che ti faccio, qua siamo in televisione, non siamo in televisione, ci possiamo dare del tu, è molto semplice. Tu stai convivendo con una difficoltà fortissima, da una parte questa idea, diciamo, di riaperture, che non è riaperture in sé, chi se ne frega, cioè me ne frega molto, ma è il principio liberale, per cui i diritti di libertà dei cittadini non debbano essere compressi oltre un certo limite, e quindi la realpolitik di far parte di un governo che comunque c'è una continuità nelle chiusure, e dall'altra parte le robe che ci scrivo. Cone, attenzione, perché una volta che ci abituiamo alla cessione di libertà, come dice un vecchio scrittore americano, l'abitudine è un potente isolante, nel senso che ormai ci siamo tutti abituati, non tanto alle mascherine, ma sfido chiunque voi di non essersi abituato alle 10 a tornare a casa. Forse qualche parlamentare, qualche giornalista trova degli escamotage, ma ragazzi siamo abituati a questo, coprifuoco si chiama. Salvini. Grazie a Nicola e grazie a Corrado che ci dà questa occasione di respirare aria pulita e sana per una mezz'oretta, prima di rimergerci nelle contingenze quotidiane e negli emendamenti al decreto sostegni e nelle chiamate con sindaci e governatori che chiedono di tornare alla vita il prima possibile. Stamattina ho sentito l'assessore al turismo della provincia di Trento come prima telefonata che mi ha preannunciato entro la settimana la riapertura dei ristoranti all'aperto. Ordinanza sì o ordinanza no. Col sostegno delle loro istituzioni sanitarie. Perché un conto è la prudenza, un conto è l'ordinanza, un conto è il buonsenso. Che in questo anno è mancato. Guardo poco e niente la televisione, cerco di usare il poco tempo libero che sto leggendo qualcosa. Ti ho intercettato quando declamavi alcuni brani di un altro libro che ahimè non ha avuto la diffusione che meritava, il libro del Ministro Speranza. Abbiamo solo la copertina. Faccio una promozione perché pare che sia quotato intorno ai 500 euro sul mercato nero. Doveva uscire il 22 ottobre. Il 26 ottobre il governo di cui faceva parte il Ministro ha chiuso tutto. Bar, ristoranti, palestre. Però il Ministro, quattro giorni prima di chiudere tutto, era pronto ad andare in libreria spiegandoci che stavamo guarendo. Non so se altri Ministri della Salute del continente europeo abbiano avuto lo stesso tempo libero, la stessa sfortuna di essere in libreria con l'inizio della seconda ondata spiegandoci che la sinistra aveva un'occasione storica grazie alla pandemia per riaffermare alcuni suoi principi. Io penso che sia di una volgarità, di un'arroganza, che non meritano commenti e spero che possa tornare in libreria perché 60 milioni di italiani leggano che cosa in piena pandemia il loro Ministro della Salute stava ipotizzando perché guariremo. Siamo a metà aprile. Lo stesso Ministro ci spiega che però per prudenza è meglio non riaprire nulla fino a maggio. Ecco, le etichette, Nicola. Sì, è complicato stare insieme. Abbiamo fatto questa scelta perché stiamo lavorando con i nostri esperti ad esempio sull'utilizzo il più corretto possibile dei 200 miliardi di euro di fondi europei perché oltre il danno e la beffa lasciare in mani non commento altrui la gestione di questa fase incredibile ma anche e soprattutto la gestione economica dei prossimi 30 anni riempiendo di monopattini elettrici e di piste ciclabili in assi viari improponibili come Corso Buenos Aires e San Milano il futuro dei nostri figli no. Quindi abbiamo detto ci rimbocchiamo alle maniche entriamo e cerchiamo di dare una conduzione una via di uscita diversa a quello che altrimenti sarebbe un percorso disastroso. Le etichette per chiunque ambisca a bere un caffè o tornare a fare una lezione singola in palestra l'accusa di sprovedutezza o negazionismo è pronta ma come c'è stato il derby ma probabilmente c'è ancora fra europeisti e sovranisti chi osava mettere in discussione il dogma di sua santità madre Europa era un disgraziato tutti coloro che hanno scelto vie diverse da Gran Bretagna a Israele sono sostanzialmente a fine percorso vaccinale Santa Madre Europa ha combinato dei disastri che fatico a ricordare nel corso della storia quindi probabilmente per pigrizia per ignoranza le etichette sono sono comode anche questo derby anche qualche collega giornalista ma quindi lei è per aprire ci sono quelli che vogliono chiudere e quelli che vogliono aprire no io sono per la scienza e questo di cui non mi capacito un ministro della salute un CTS se la scienza vale quando i dati peggiorano per la chiusura ma perché la scienza non deve valere quando i dati migliorano per la riapertura cioè c'è la scienza di serie A la scienza di serie B il rosso è più importante del giallo sì per qualcuno è evidente anche il titolo era rosso qualcuno vede rosso pensa rosso si alza sognando rosso e si addormenta sognando rosso noi no se è bianco è bianco se è azzurro è azzurro se è fucsia è fucsia c'è un timore però scusami se ti interrompo il timore è di commettere proprio quegli errori che ha già commesso il ministro Speranza pensando che fosse già una volta finita la pandemia cioè forte mettiamola in positivo forte di quell'errore diciamo non facciamo un secondo errore fuori di discussione cioè l'obiezione che mi fa quando gli dico beh nella migliore delle ipotesi abbiamo fatto un casino stiamo attenti stiamo prudenti per la seconda volta forse un po' non considerando cosa vuol dire questa prudenza dico io ma questa è la domanda che faccio a te guardiamo la perfida Albione che una volta perseguita l'inspiegabile via della Brexit avrebbe dovuto essere sconvolta da tragedie e da sventure in mani ha vinto le Olimpiadi del vaccino ma di gran lunga e oggi se non erro riapre pub ristoranti palestre attività economiche culturali sociali non stiamo parlando di una tribù in Centrafrica che fa un esperimento sulla pelle dei suoi cittadini ma senza stare a Londra si può rientrare nei confini dell'Unione Europea passando per Madrid o per Stoccolma quindi non c'è un'uniformità di pensiero evidentemente ma per fortuna c'è libertà la salute può convivere con la vita col diritto allo studio col diritto al lavoro io spero leggevo adesso prima ero in ufficio il Senato prima di venire qua che il Presidente Draghi si è dato due settimane di obiettivo per ripartire mentre qualcuno continua a dire no a oltranza ecco io penso che non sia né scientifico né liberale il no il no a prescindere secondo te con tutte ripeto le prudenze del caso perché ci sono protocolli di sicurezza però io temo che qualcuno possa aver pensato di fare un'opera di riequilibrio sociale economico sulla base dell'emergenza pandemica perché le chiusure per qualcuno in pandemia fanno male per qualcuno molto meno ti voglio fare una domanda da ex Ministro degli Interni è molto secca se possibile proprio in virtù di quello che scrive Ocone cioè i limiti che si devono dare alla libertà e e e la sicurezza cioè i confini tra le due cose prima domanda ex Ministro degli Interni avresti autorizzato una manifestazione come quella che c'è stata io apro che si è fermata a Piazza San Silvestro se fossi stato Ministro degli Interni e quanto sareste io sono per la libertà di pensiero di parole di manifestazione sempre e comunque quindi l'aveste autorizzata assolutamente sì e il fatto che alcuni di loro non indossassero le mascherine che è diventata una cosa per cui è un crimine bisogna rispettare le leggi e quindi si rispettano le leggi però ti voglio chiedere quello sarebbe potuto essere un vincolo per te ex Ministro degli Interni di autorizzare ho visto che il Ministro Lamorgese ha detto attenzione perché questi sono senza mascherine e bisogna stare molto attenti e ieri ho visto tutti i commenti dei miei colleghi che dicevano guarda che assembramenti persone senza mascherine obiettivamente c'erano molte persone se andiamo fuori da un liceo adesso troviamo dei sedicenni sicuramente senza mascherine non chiudo quel liceo lo invito a tutelare se stesso alzando la mascherina se andiamo a fare due passi a Villa Borghese adesso quasi sicuramente troviamo qualcuno che accompagna il cagnolino senza mascherina non lo condanno a vent'anni di galera ma lo invito con buon senso ad alzare la mascherina ecco visto il clima probabilmente coi se non si fa nulla però per come sono fatto io nella piazza di ieri fossi stato ancora Ministro ci sarei andato io direttamente insieme ai miei poliziotti perché in un momento come questo il buon senso l'esempio il segnale la simbologia vale mille volte di più che in tempi di pace non stiamo vivendo tempi di pace questi sono tempi di guerra quando hai il coprifuoco quando hai le chiusure quando ci sono i calciatori adesso non so se oggi ne hanno beccato un altro che va a pranzo e una volta è Di Bala una volta è Ibrahimovic quindi è chiaro che stiamo vivendo un momento in cui anche i simboli sono importanti quindi secondo me per i ministri di qualunque area di competenza essere in prima linea oggi vale doppio e più di una multa a potere il consiglio è l'esempio non penso che si possa anche perché cos'è passato 13 mesi siamo nel 14esimo mese la gente ha dimostrato pazienza sopportazione generosità solidarietà però siamo al 14esimo mese e ripeto magari qualcuno non penso a esponenti del governo però qualcuno fuori da qua può anche avere convenienza a che la chiusura si protragga perché è una punizione a quel ceto autonomo a quel lavoro autonomo a quella proprietà privata a quel reddito privato che a qualcuno non va bene proprio per per idea per ideologia è chiaro che se tu hai uno stipendio garantito una pensione garantita un lavoro garantito anzi probabilmente con i negozi chiusi i ristoranti chiusi risparmia anche qualcosa tanto che il risparmio privato in generale nella media dell'italiano è aumentato chi lavora del suo i milioni di partite IVA autonomi artigiani che magari la sinistra fatica a irregimentare perché sono modadi e quindi ragionano con la loro testa e sono più difficili da incanalare quindi magari qualcuno potrebbe anche voler bastonare categorie sociali umane economiche professionali che da rieducare i suoi ministri si sono presi i tuoi ministri si sono presi due gatti da pelare niente male perché lo sviluppo economico è un disastro nel senso che è un disastro la situazione in cui ci sono non so quante centinaia di tavoli aperti ma siamo arrivati siamo prima volta che sono andato con Giancarlo Giorgetti a bermi un caffè c'erano 99 tavoli aperti ma attenzione il numero di tavoli di crisi aziendali aperti era sceso da 140 a 99 non perché le crisi erano state risolte ma perché le aziende erano fallite quindi è chiaro che se tu dai come esito positivo di una crisi aziendale la chiusura dell'azienda non è hai ridotto i numeri ma non bene però voglio dire turismo ovviamente dipende dai lockdown e delle cose lo sviluppo economico dipende da anni purtroppo di crisi economica aggravati dagli ultimi 14 mesi la delegazione della Lega al governo quanto tempo rimane visto che ci troviamo in una situazione in cui non si è ancora riaperto mi auguro che si riapra avete dei dossier mostruosi perché il turismo scusami è ancillare alla riapertura non è che Caravaglia può fare i salti noi siamo lì per rimanerci ma non per il gusto di stare al governo questo mi è chiaro stiamo lavorando a un'estate da boom economico cioè da anni 50 per intenderci da post un'estate post bellica questa è che sia l'inizio di un rinascimento di una ripartenza non solo economica ma soprattutto sociale e mentale perché uno dei danni su cui stiamo lavorando come gruppi Lega alla Camera del Senato che emergono poco sui giornali sono i danni psicologici e aggiungo purtroppo anche psichiatrici che questi 14 mesi si porteranno dietro perché i danni da covid tu li vedi con le terapie intensive di oggi 3500 3600 quelli sono danni gravi evidenti i danni mentali tu non li vedi oggi ma li raccogli domani psicofarmaci tranquillanti ansiolitici droghe a maggior ragione è demenziale parlare di droghe in un momento in cui ahimè la diffusione è drammaticamente aumentata quindi noi stiamo lì finché c'è bisogno che noi stiamo lì non entriamo e usciamo non siamo in metropolitana ma comunque magari qualcuno aspetta solo questo per tornare a un bel governo ma stai influenzando il governo lo stai indirizzando cioè il punto che io penso proprio di sì avendo due leve che sono incasinate di per sé che erano le due leve dello sviluppo ma a noi piacciono le sfide più più complicate se avessi dovuto andare a fare la carta da parati al governo Draghi no grazie se devo metterci la faccia ce la metto fino in fondo e l'obiettivo nostro è di dimostrare che il rilancio delle imprese il rilancio del turismo in Italia e anche il sostegno ai 6 milioni di persone disabili che sono stati più danneggiati e dimenticati nell'anno di pandemia dal governo Conte sono in agenda e io sono convinto che anche il rapporto non solo politico ma umano personale diretto e franco col presidente Draghi ci accompagnerà in questa uscita da questa emergenza e quindi da questo punto di vista sono sono ottimista e non do soddisfazione a qualcuno che che ha nostalgia di Bonafede dell'Azzolina o di Arcuri te l'aspettavi così Draghi una domanda non lo conoscevo ecco appunto te l'aspettavi un rigido banchiere o ti ascolta o ascolta o sente c'è un rapporto che poi ovviamente tengo per me che dal punto di vista personale è molto più franco diretto e sorridente di quanto non si potesse pensare adesso aspetto che prenda la forma anche di risultanze concrete però ripeto noi fortunatamente come lega abbiamo anche una classe dirigente che amministra i due terzi del paese che si prende le sue responsabilità perché io penso che il pensiero liberale preveda che la scienza metta a disposizione dei dati che poi la politica deve prendersi l'onore e l'onere di elaborare sulla base dei quali decidere quindi se i dati in mano alla provincia autonoma di Trento in base anche alle risultanze della comunità scientifica della provincia di Trento permetteranno questa settimana ordinanza sì ordinanza no speranza sì speranza no Locatelli Galli Ricciardi di uscire a pranzo negli spazi all'aperto perché il buonsenso oltre che la scienza ti dicono che fai meno danni piuttosto che trovarsi abusivamente in 15 in casa o massonicamente in cantina al ristorante o in baita e decideranno di conseguenza assumendosi la responsabilità di questa scelta io sono con loro mi vedo già il titolo Nicola le trasmissioni te la vede da Gruber negazionisti tirolesi o cose no è gente di buonsenso se in alcune realtà le chiusure hanno portato a un aumento dei contagi e c'è qualcosa che non funziona sì però l'obiezione che fanno tutti quanti il sistema Sardegna l'abbiamo tenuta in bianca e poi dopo è diventata in rossa me lo sento dire ogni giorno in realtà è partita più tardi la curva se tu ascolti il governatore ti racconta che le prime chiusure in zona arancione hanno portato io non so perché non faccio il medico un aumento dei contagi quindi ma non facciamo io ritengo che abbiamo vissuto un anno drammatico irripetibile a Dio piacendo però non abbiamo non tutti hanno imparato qualcosa perché guariremo perché guariremo io sto ancora aspettando di capire non puoi attaccare il ministro del tuo governo così no 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 io sto prendendo uno spunto siete insieme ma no perché guariremo ma perché ieri ho sentito un amico che ad Abu Dhabi mi ha raccontato che la copertura vaccinale è all'81% anche grazie al contributo del vaccino russo che è utilizzato in 60 paesi al mondo e noi stiamo ancora aspettando l'oracolo del lema a Bruxelles cioè se una cosa funziona funziona se una cosa non funziona non funziona professore mi credo che se sbaglio se a Bruxelles i santoni del lema diranno il vaccino russo è una vacata funziona di più la camomilla basta altri 60 paesi al mondo compresi alcuni nell'Unione Europea evidentemente hanno fatto scelte bizzarre ecco la cosa che non posso più tollerare da cittadino italiano è la perdita di tempo la vaghezza AstraZeneca 60 55 65 72 38 non cosa ne pensi dell'idea del vaccino che alcuni operatori economici possono iniziare ti diciamo lodo De Luca ma non è soltanto De Luca cioè si dice per far riprendere l'economia cerchiamo di dare una mano a alcuni operatori oppure tu ti ricordi quando lo propose Letizia Moratti come assessora sanitaria di regione Baccia bieca speculatrice capitalista non ricordo e tu che ne pensi invece partiamo dagli ottantenni e facciamo il criterio diciamo israeliano che peraltro stanno facendo abbastanza nel Lazio cioè andiamo per età oltre i fragili o aiutiamo prima gli operatori economici tra le due opzioni politiche l'oggettivo criterio per età anagrafica è incontestabile e siccome l'Italia è la patria dell'interpretazione soggettiva qual è la categoria fondamentale perfino i giornalisti si sono ritenuti categoria fondamentale quindi ti rendi conto del fatto che evidentemente siamo un paese al collasso quindi il criterio oggettivo per età anagrafica a calare ecco l'unica cosa che non posso immaginare a meno di passare perfesso un giornalista mi ha fatto vedere la richiesta del partito democratico di ieri che prevede le riaperture quando saranno vaccinati tutti gli over 60 allora basta che tu mi dica subito noi riparliamo a settembre chi si è visto si è visto adesso non prendiamoci in giro non prendiamoci in giro poi dopo Corrado vorrei fare un'altra abbiamo finito quanto tempo ci avevi dedicato mezz'ora tutto il tempo no ma ti voglio chiedere un'altra cosa perché non ce la siamo che ha detto recentemente sei al governo con gli stessi che hanno votato per un processo che poi l'accusa ha deciso che quel processo non si sarebbe dovuto tenere io capisco che la politica è in grado di assorbire qualsiasi colpo però Speranza deve assorbire la lettura del suo libro da parte di Salvini no io non ho 600 euro ma te lo do io ti faccio ho la copertina e tu però devi assorbire il fatto che sei al governo con quelli che ti hanno mandato a processo nonostante poi la procuria io forse sono più fumantino ma gli avrei dato ma guarda la politica è un'altra cosa quello più incazzato dovrei essere io ecco appunto perché l'unico che ha processo sono io non ci sono a processo Speranza Lameloni Draghi Zingaretti almeno per il momento l'unico a processo vero no sono io e c'è anche Berlusconi ieri l'ho sentito sia ieri che l'altro ieri e penso che questa vicenda adesso non so magari i suoi avvocati mi chiederebbero di star zitto e quindi mi taccio però penso che sia non sia degno di un paese civile quello che sta subendo Silvio Berlusconi ancora in questo periodo in diverse procure e penso che a Siena ci sia tanto da da capire non niente da capire per citare però io sai qual è la cosa bizzarra che io sabato ho un'altra udienza per un fatto sostanzialmente identico per un altro sbarco però in un'altra procura a Palermo se avessi anche qua il mio avvocato mi suggererebbe no parla parla però si è preso l'unico sbagliato quindi per due sbarchi sostanzialmente identici in un periodo sostanzialmente identico in porti vicini la procura di Catania sabato ha chiesto il non luogo a procedere perché ha detto Salvini ha fatto il suo mestiere non esiste reato e non ha violato i trattati internazionali la procura di Palermo ha chiesto l'esatto contrario cioè per un altro sbarco non la Gregoretti ma l'opera secondo me in maniera ancora più incredibile perché la Gregoretti era una nave italiana quindi volendo dire uno quella è una una nave spagnola che ha raccolto presunti naufraghi in acque libiche in acque maltesi ha rifiutato di andare prima a Malta poi in Spagna lì la procura di Palermo invece ha chiesto il rinvio a giudizio e quindi vediamo sabato come va a finire io sto al governo per aiutare oggi non avrebbero questa formula il mio paese le mie vicende giudiziarie interessano me la mia famiglia penso e pochi altri non penso che ci sia qualcuno che abbia sussulti di coscienza fra coloro che mi hanno mandato a processo qualcuno ti devo dire onestamente mi ha mandato dei whatsapp dicendo ho fatto una scemata dicendo chiedendo scusa sostanzialmente ma li tengo per me altri usano la politica come vendetta personale ritengono che uomini e donne siano carne a macello però non sono preoccupato onestamente ultima domanda siamo a Roma siamo a Roma abbiamo Milano con un sindaco uscente che si candida Roma con un sindaco uscente che mi sembra che si candidi speriamo non lo so però il centrodestra io glielo chiedo a tutti l'ho chiesto ieri sera anche all'onorevole Meloni ma non avete ancora espresso un candidato l'ho chiesto anche a te in una recente intervista hai chiamato Bertolato di Centro di Pense su Milano sono stato ieri e ieri l'altro e ho avuto interlocuzioni interessanti su Roma fra oggi e domani avrò interlocuzioni interessanti Torino la considero chiusa Napoli la considero chiusa un magistrato avete preso a Napoli correggimi se sbaglio ma i magistrati sono 10.000 ci sono magistrati politicizzati che usano la toga per fare politica ci sono tanti altri magistrati che sono persone libere ma mi interessa questa cosa perché i magistrati in realtà hanno sempre delle belle carriere politiche però no no va bene se scelgono il centrodestra magari non si scelgono una vita anche a Roma ci potrebbe essere un magistrato diciamo che conto entro aprile di avere due riaperture la riapertura che più mi preme che è quella delle attività economiche sociali sportive culturali perché ripeto l'economia è importante però lo vedo con mio figlio di 18 anni aver tolto gli allenamenti e lo sport dilettantistico ai nostri figli è un disastro è un disastro è un dramma quindi la ripartenza su cui stiamo lavorando come matti entro aprile ripeto spero che nessuno la usi con un'arma ideologica e deve passare aprile a prescindere per fare un dispetto a Salvini anche se i dati dicono che la situazione è sotto controllo a aprile non riapre neanche una cantina e ne riparliamo a maggio perché politicamente bisogna dare una lezione a quelli della Lega e a quelli del lavoro autonomo e agli imprenditori ai commercianti che sono tendenzialmente evasori e poi si ostinano a non votare per la sinistra in massa pensa a te che disgraziati quindi tornare alla vita al lavoro allo sport entro aprile e offrire dei candidati alternativi a Bassolino alla Raggi a Sala sempre entro aprile io penso che sia assolutamente plausibile bene bene più di mezz'ora diventa noiosissima anche se c'è Salvini che è in grande forma Okone tu devi dire qualcos'altro su cui possiamo andare ad assemblarci a tre io volevo solo rapidamente chiedere a Matteo cosa pensa insomma dell'istruzione insomma questi poveri ragazzi hanno perso due anni di scuola praticamente ma io l'ho vissuta anzi ma anche settimana scorsa con i miei figli ne ho uno all'elementare ne ho uno al liceo con tutti gli sforzi del mondo che gli insegnanti hanno fatto non è scuola non è didattica in molti casi hanno perso ma non solo nozioni hanno perso socialità e quella non glielo ha ristrutto nessuno perché i sumeri te li puoi ristudiare le equazioni te le puoi ristudiare la mancanza di socialità con i tuoi compagni a 15 a 16 anni non te la restituisce nessuno e quindi soffre più il tuo figlio piccolo o il grande? ma sai che per assurdo nel mio vissuto personale soffre di più il grande perché il piccolo magari un gioco a casa la maestra l'amica l'amichetto la merenda il babysitter a 8 anni ovviamente la didattica a distanza per un bimbo di 8 anni è risibile però a 17 anni tu sei nel pieno della vita esci all'intervallo esci con l'amorosa vai al MEC il venerdì pomeriggio zero quello quella è una tortura quella è una tortura va bene grazie grazie a voi grazie a voi grazie a te Corrado senti ma ne hai una coppia clandestina? si te la mando te la mando che costa un po' io sono fissato che ho dei soldi non scassi grazie a te Corrado grazie a te Corrado